Il ruolo della stampa al tempo del fascismo e il tema di un incontro svoltosi all'Università di Teramo è promosso dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Un tuffo nel passato, ma che diventa incredibilmente attuale, oggi che paesi come la Russia usano per esempio la stampa come mezzo di propaganda. Il fascismo in qualche modo è nato anche attraverso la stampa. Io voglio semplicemente ricordare che Mussolini da socialista nel 1914 li vede interventista e nazionalista sostanzialmente utilizzando uno strumento di informazione che è il popolo d'Italia, finanziato anche con capitali provenienti da certi settori del capitalismo italiano o anche per esempio francese, ma sostanzialmente utilizzando il quotidiano, il popolo d'Italia come grande strumento politico. E voglio ricordare che una delle prime iniziative che il fascismo compì in maniera violenta contro la stampa, paradossalmente, è proprio l'assalto nel 1919 all'Avanti, appena neanche un mese dopo la nascita dei fasci di combattimento, nell'aprile del 1919. A sottolineare come la stampa sia stato uno dei gangli vitali del processo democratico o antidemocratico in generale, nel nostro paese in particolare. Ecco, nel nostro paese possiamo dire che c'è una stampa libera? Io credo di sì, sostanzialmente sì. Poi naturalmente la stampa libera è anche un processo che ha molto a che fare non soltanto con la proprietà della testata giornalistica o televisiva, che dir si voglia, ma ha anche a che fare molto con la professionalità e la dignità professionale dei singoli giornalisti. Cioè due cose non sono mai separate. C'è anche un momento di condizionamento, talvolta anche coercitivo, come stiamo vedendo per esempio per la Russia in questo periodo storico particolare, ma c'è anche tanto conformismo. Ma è soprattutto il problema del precariato che rende debole l'intera categoria dei giornalisti italiani, come spiega il presidente dell'Ordine d'Abruzzo, Stefano Pallotta. C'è un restringimento molto forte della libertà di stampa dovuto a molteplici fattori. Uno di questi è il precariato. La precarizzazione della nostra professione comporta molto spesso una limitazione della libertà di stampa. A questo si aggiunga per esempio tutto il discorso sulle querelle temerarie, che ricadono sui colleghi precari in maniera molto forte, cause civilistiche con richieste di risarcimento in denaro, astronomiche, e questo comporta sicuramente una contrazione della libertà di pensiero, dalla libertà di critica, per cui i nostri filtri stanno per essere azzerati. E questo è uno dei motivi per cui molte agenzie di rating che valutano la libertà di stampa nei paesi occidentali o comunque nel mondo ci mettono in classifici, ci mettono in posti molto bassi rispetto alle altre situazioni occidentali.